Danilo, iniziamo, ti leggo questa statistica, se l'Inter non dovesse vincere domenica col Bologna sarebbe la peggior serie della sua storia con nove partite senza vittorie? I risultati di questo tipo lasciano il tempo che trovano, nel senso che se noi riusciamo ad ottenere il nostro obiettivo, tutto il resto sono statistiche. Certo è normale che faremo di tutto per vincere, ma a prescindere dalla statistica. Vi sentite un po' sotto attacco ultimamente, spesso quando le cose non funzionano, casini social, scintille negli spogliatoi? Eravamo sotto pressione anche prima quando eravamo primi in classifica, tutti ci dicevano che giocavamo male, però eravamo primi in classifica. Quando sei in un grande club è normale essere attaccati da tutti e quindi siamo anche addestrati a questo. Però gli attacchi social non ci riguardano, anche perché sono uscite tantissime eresie, tantissime cose non vere. Quindi il gruppo è solido, è compatto, siamo tutti davvero dei bravi ragazzi, non lo dico per dirlo, anzi forse siamo fin troppo dei bravi ragazzi.